Bentornati in un nuovo video del mio canale, oggi ho deciso di portarvi un video su un plugin veramente molto molto interessante Purtroppo non è gratuito come quelli che abbiamo visto negli ultimi video, però devo dire che io mi trovo veramente molto molto bene Ha un suono, secondo me, spettacolare Sto parlando di uno degli ultimi plugin di Plugin Alliance in collaborazione con Brainworks che è uscito Ed è il Channel Strip del Lamec, loro lo chiamano 9099 In realtà fa riferimento, se si guarda anche sul manuale comunque c'è scritto È stato modellato dal banco dell'Amec 9098i Quindi cosa hanno fatto? Hanno preso quel banco, hanno analizzato, hanno cercato di capire un po' come suona E hanno diciamo riemulato in versione plugin quella che è la risposta comunque di quel banco analogico Ma prima di partire vi ricordo che se volete supportare il canale è sufficiente iscriversi Mi dà sicuramente una grossa grossa mano a portare avanti il progetto In più se volete rimanere aggiornati su tutti i video che pubblico basterà attivare la campanellina Così ogni quel volta che pubblicherò un video voi lo saprete Detto ciò andiamo subito a vedere come funziona questo plugin Per chi non sapesse cos'è un Channel Strip in sostanza è una soluzione all-in-one Prendiamo per esempio un discorso di un hardware Ecco che avremo sicuramente lo stato di preamplificazione, comunque di guadagno del segnale Poi magari avremo un passa alto e un passa basso, una sezione di gate eventualmente Un compressore e un equalizzatore Solitamente ci sono questi qua Poi magari nel caso appunto dell'hardware avremo diverse mandate Nel caso in cui vogliamo mandare il segnale ad altri hardware Comunque per potergli aggiungere Questo era comunque un discorso in generale di come funziona un Channel Strip Adesso passiamo subito a vedere effettivamente quello che vi volevo portare oggi Allora questo plugin sarà ufficialmente in commercio dal 3 di agosto Quindi vi faccio questo video in questo momento Perché magari quando sarà il momento di lancio del plugin Magari c'è qualche offerta particolare, c'è qualche sconto E chissà che non riusciate a portarvelo a casa un pochino meno Io lo sto usando già in realtà da un paio di settimane Perché Plugin Alliance è stata la possibilità di utilizzarlo in anteprima Agli utenti che sono abbonati diciamo ai loro servizi mensili o annuali A parte il suono che suona veramente veramente molto bene Almeno a me personalmente piace tantissimo il suono di questo plugin Mi ha colpito per la vassità di funzioni in realtà che ha all'interno di un unico software Ho altri 3 plugin che funzionano da Channel Strip Però questo devo dire che mi sembra comunque il più completo Mi facciamo subito una carallata a vedere effettivamente che cosa fa Intanto io qua vi ho aperto un piccolo loop di batteria Ve lo faccio sentire con tutto spento Ok ho usato un qualunque loop di Z drummer che è molto semplice Giusto per farvi sentire Allora intanto partiamo con la prima sezione Questo è l'ordine Ok quindi partiamo da qua su Come prima cosa abbiamo appunto un high pass filter e un low pass filter Quindi possiamo andare a tagliarli per la parte di basse E possiamo anche andare a moltiplicarli Ok qui c'è la funzione per 3 Va semplicemente a moltiplicare il valore Quindi disattivato va dai 20 Hz ai 300 Hz Con il per 3 attivato va dai 60 ai 900 Stessa cosa anche sulle altre dai 4.500 ai 30.000 Oppure dimezzando dai 1.500 ai 10.000 Quindi questo Questo è utile nel caso in cui dovessimo fare Dettagli un pochino più estremi Ecco che ci viene in aiuto questa funzione Poi tramite questo tastino qua sotto possiamo indicargli Se taglio comunque ce l'abbiamo in input Quindi è la prima cosa che troviamo Oppure ce l'abbiamo post E si riferisce comunque in post alla sezione di gate e di compressione Oppure in sidechain Quindi è ciò che innesca il compressore Quindi nel caso il suono ha troppe basse Quindi magari abbiamo In questo caso abbiamo un loop completo La cassa Vediamo che le basse della cassa inneschino il compressore Andiamo a togliare le basse E Noi comunque non lo sentiremo Ma attiviamo il compressore Il compressore non sarà attivato dalle basse frequenze C'è la differenza In questo caso anche la cassa innesca il compressore Però adesso andiamo in ordine Andiamo appunto nella sezione di gate Quindi sempre sezione per pulire tutto quanto Possiamo attivarlo e disattivarlo Qui abbiamo i led che ci dicono di quanto viene abbassato oppure no Ok possiamo vedere Lo attiviamo Qui ci dice quando appunto è chiuso In base al led Ecco che si apre soltanto quando c'è il colpo di cassa Appunto regolando tramite la threshold Tutto ciò che è sotto la soglia non passa E il gate si apre soltanto quando appunto passa Quando il segnale oltrepassa la threshold Poi abbiamo la funzione di invertire il gate Quindi invece che mutare faremo sentire Ciò che quando è normale verrebbe mutato Poi abbiamo la funzione di expander Quindi lavora nel range che noi magari gli abbiamo dato Solo che invece che abbassare il nostro suono Ecco che in quel range lì lo aumenta Poi abbiamo un altro passa alto e passa basso Solamente per controllare il gate Quindi possiamo anche attivare la funzione listen Per ascoltare come viene modificato il suono Ovviamente se disattiamo la funzione listen Ci fa sentire il suono così com'è Quello serve solo per modificare il suono Che innesca il gate Esattamente come qua in questo caso Nella funzione sidechain Modifica il suono che innesca il compressore Andiamo nella sezione compressione Qui abbiamo i solitissimi parametri Quindi threshold, attacco, rilascio Possiamo andare anche a impostarli una release automatica Quindi in base al tipo di suono Lui regola la release come gli sembrerà più opportuno Abbiamo la ratio Poi abbiamo un high pass filter Sempre per il discorso di come innescare il compressore Poi abbiamo un make up per ridare la potenza Abbiamo questa funzione molto interessante Che solitamente non si trova in pochissimi channel strip Che è la sezione di mix Quindi io posso andare già sul channel strip Ad applicare una compressione parallela Ad esempio vi faccio sentire Ok, compressione molto estrema Perché tanto la diamo in parallelo Poi abbiamo Harkney Che praticamente è un'altra regolazione Della curvatura del compressore In sostanza è la curvatura di quando il segnale Si sta avvicinando alla soglia Se ha una curva molto morbida Inizia a comprimere pian piano anche prima Se ha una curva molto drastica È netto Quindi 0,1 dB sotto non comprime 0,1 dB sopra comprime Anche con regolazioni drastiche Questo tasto invece lo chiamano ambient Ed è la differenza tra il segnale di input E il segnale compresso Quindi in sostanza quello che c'è a metà Quindi non senti né il segnale normale Né la compressione Ma ha la sottrazione di due segnali Passiamo ora alla sezione di limiter Quindi abbiamo appunto anche qui Threshold, release, make-up Sezione di mix Poi un'altra cosa che sempre di questo plugin Mi ha sorpreso Possiamo impostare limiter su clip limiter Quindi in questo caso attivandolo Scompara appunto la sezione di rilascio Perché regolerà in modo molto veloce Sia l'attacco che il rilascio del limiter Per far sì che eventuali picchi Che andrebbero al di sopra del limite consentito Rimangano insomma al di sotto Perfetto appunto per suoni percussivi Poi attivando fast attack Aumenta ancora di più la velocità In risposta sugli attacchi Super esagerato Andiamo poi nella sezione di equalizzazione Appunto di questo plugin Quindi attiviamola Abbiamo i classici quattro filtri Filtro sulle alte Selettore di frequenza Gain Poi abbiamo una funzione che fa passare Appunto dal filtro shelf Al filtro peak Quindi va a lavorare lì dalla frequenza E non da lì in poi Come appunto lo shelf Poi abbiamo questa funzione Che loro chiamano shin In sostanza allarga Quella che è la campana Comunque la banda di frequenza O la curvatura di incremento Andiamo poi nelle due sezioni centrali Che sono pressoché identiche Cambiano soltanto l'inizio e la fine Quindi questo è per le medio-alte Questo è per le medio-basse Larghezza della campana Su entrambe le parti Selettore di frequenza Gain E in questo caso possiamo indicargli Appunto il notch Il filtro notch A differenza di un filtro peak Va O di una campana Classica La frequenza selezionata La va praticamente a tirare giù E la elimina completamente Poi dopo Si modifica questo parametro E possiamo andare a decidere Quanto è drastica La modifica di volume Termini di volume Dalla frequenza eliminata A tutte le altre Sia a destra che a sinistra L'unica differenza Fra i due filtri A parte appunto Queste frequenze Sono che possiamo Moltiplicare Anche in questo caso Per due Le frequenze qua Dividerle Baste frequenze Classico Anche qui Selettore di frequenza E appunto Manopola del gain Anche qui Possiamo andare a modificarli Invece che tenere uno shell Possiamo andare a dare Peak Andargli a modificare E dargli appunto Una campana E in questo caso Loro la chiamano glue Ma anche In questo punto Appunto Allargano semplicemente La campana Ultima sezione Anche qui Possiamo decidere Se deve essere Pre Rispetto al compressore Post Oppure Inside chain Diamo un'equalizzata Veloce al tutto Comunque intanto Vi faccio sentire Qualcosa di Più Invece che Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, è giusto per farvi dire comunque un po' effettivamente come suona questo plugin. Andiamo ora nell'ultimissima parte, possiamo vedere appunto, qua abbiamo il meter dei DBU, qui abbiamo un V-meter invece, abbiamo l'introduzione di quella che è diciamo una distorsione armonica dalla console, qui invece abbiamo l'intensità della corrente magari che introduce appunto la console, questi due parametri servono a dargli un po' di quel carattere analogico che altrimenti magari mancherebbe un pochino. Questo è il gain d'ingresso, l'inversione di fase del segnale, tasto muto, ok, solite diciamo cose. Possiamo deciderli se dargli, diciamo, ragionarli come due canali diversi, quindi canale destro e sinistro verranno leggermente in maniera differente esattamente com'è in una console analogica, oppure ragionarli in maniera digitale come indica lui, che sono esattamente identici, canale destro e sinistro. Poi possiamo andare a modificargli appunto il tipo di canale, proprio perché se noi gli emuliamo, diciamo una cosa analogica, metti che apriamo questo plugin su tutti i canali della nostra sessione di mix, ecco che andando a modificargli appunto il canale su ognuno, possiamo far sì che il plugin suoni sempre leggermente in maniera diversa. Ovvio, se alzate i 500 Hz vi alza comunque i 500 Hz, cioè non è che vi alzi i 400. Però il modo di lavorare è leggermente... Per finire, un'ultima sezione che anche questa appena l'ho vista mi ha lasciato veramente sorpreso, perché l'ho visto in pochissimi plugin, o comunque in plugin dedicati che fanno questa cosa. Abbiamo la funzione di Monomaker, in sostanza è una manopola che indica una frequenza, tutto ciò che è al di sotto della frequenza indicata viene compresso in mono. In questo modo noi possiamo andare a non esagerare con la stereofonia nelle basse frequenze, in modo che non ci siano grossi problemi. Diciamo che le basse frequenze sono quelle che hanno sempre un pochino più di problemi per quanto riguarda la stereofonia. Quindi solitamente è buona cosa dagli 80 in giù comprimere in mono. Parlo del master finale, però adesso in vari suoni dipende. Però dagli 80 fino ai 180, 200, dipende se stiamo masterizzando, dipende per cosa stiamo masterizzando, ecco. Poi abbiamo l'apertura stereo, quindi semplicemente magari se la mettiamo a zero comprimo tutto. Ma se l'avete ascoltata con delle cuffie o qualunque impianto stereo avete già sentito, c'è poco da dire. Quindi niente, in sostanza il plugin è questo, a mio avviso suona veramente veramente molto bene. È molto colorato comunque come plugin, non è qualcosa che lo usiamo per andare a sistemare il suono, o meglio se devo fare un'equalizzazione correttiva, devo comprimere però in una certa maniera molto dettagliato, ecco che forse non è perfetto al 100%, però per dare un po' di vita ai suoni, usarlo proprio appunto come c'è nel script, secondo me è veramente veramente molto valido. Infatti secondo me è usato, diciamo, insieme a un Pro Q3 della FabFilter, oppure il TDR Nova, insomma un equalizzatore digitale, quindi molto dettagliato e magari un compressore anch'esso di indole digitale, quindi molto molto preciso. Ecco che poi dopo gli diamo un po' di pasta analogica con questo e secondo me abbiamo risolto un buon 80-90% del nostro mix. Purtroppo non riesco a dirvi ancora quanto costerà perché non l'hanno proprio rilasciato a pagamento, quindi o sei abbonato e ce l'hai già oppure bisogna aspettare al 3 agosto, ma tanto mancano un paio di giorni, quindi non dovrebbe esserci un grosso problema. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo che in descrizione vi lascio la mia guida gratuita per tutti i migliori plugin free che ci sono in circolazione, quindi se volete migliorare il vostro suono gratuitamente senza spendere soldi ma portarlo a un livello superiore, ecco che secondo me la guida può fare al caso vostro. Inoltre se volete supportare il canale vi ricordo che basta iscriversi, attivare la campanellina, in più sempre in descrizione ci sono i vari link ai miei canali social di Instagram e di Facebook dove un pubblico di contenuti sempre solo produzione ma un po' diversi, quindi magari possono tornare a votare anche quelli. Detto ciò, niente, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video.